Il mercato di Salvatore è allieva del Conservatorio di Napoli, che insieme a molti altri giovani è spesso qui da noi e quest'oggi noi le vogliamo fare una cosa, eccola qua, Olga De Maio, lì facciamo un applauso di incontrimento perché Olga De Maio, ricordiamoci questo nome, ecco perché è al suo primissimo debutto, lo sa che lei deve fare un piccolo refrain, no? Lo sa, ecco, si è preparata, è emozionata. Quanto che basta. Oh, vedi, era pure la risposta esatta, Olga De Maio allora vi farà ascoltare, vi farà ascoltare un assaggio dell'aria di Musetto, della Bohème di Puccini, Olga De Maio. Quando me lo solita per la via, la gente so sta e mira. E la bellezza mia, tutta ricerca in me, ricerca in me, da capo a pie. E da saporo allora la bramosia sottil che dagli occhi trasfira e dai palesi pezzi intendersà alle occulte bellezza, così l'effluvio del desirio, tutta magira, felice mi fa, felice mi fa, felice. Grazie. 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 Grazie.